Manuel Pantalone, un sogno che si avvera, perché il Chieti dopo un anno di purgatorio torna in Serie D e voi siete contenti per questo? Siamo davvero molto contenti, il primo anno della nostra amministrazione, questo grande risultato per la squadra calcistica della nostra città, siamo veramente felici, sarà veramente l'occasione per riportare il calcio ai fasti di un tempo e per tornare alle categorie che ci competono. Un plauso va fatto alla società, noi come amministrazione abbiamo sin da subito garantito la massima collaborazione, abbiamo assicurato all'interno dell'Angelini un manterboso sempre all'altezza della situazione, abbiamo veramente curato i minimi particolari affinché lo stadio fosse pronto per le gare interne sia prima che il decreto prevedesse il ritorno del pubblico sia successivamente con il ritorno della gente allo stadio. Siamo molto molto felici, da qui riparte il futuro calcistico della nostra città, forza Chieti. Lo abbiamo detto anche con il Presidente, adesso ci sarà il momento di festeggiare, però da dopodomani, magari tra una settimana ci sarà il momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, l'amministrazione lo potrà fare insieme alla società per programmare, che ne so, qualcosa di più importante rispetto agli anni passati. La società ha programmi ambiziosi e noi come amministrazione saremo sempre vicini a tutte le società sportive della città e in questa occasione in modo particolare alla squadra di calcio affinché, come dicevo prima, Chieti possa tornare alle categorie che le competono.